Buongiorno, siamo a Varese, ai piedi del Bernasconi, il campanile della Basilica di San Vittorio che si trova nel pieno centro della città. Qui lunedì cominceranno i tanto attesi lavori per la ristrutturazione di questo edificio, di questa struttura che risale al 1616 con un progetto realizzato dall'architetto Giuseppe Bernasconi da cui prende appunto il nome. Le operazioni di restauro dureranno circa 14 mesi e avranno un importo complessivo di circa un milione di euro già messi a bilancio e coperti finanziariamente.